Amici, ho scoperto il telefono che non si scarica mai, si chiama Meizu M3 Note un telefono veramente molto bello, assomiglia a uno smartphone che già abbiamo visto in Italia è anche bello famoso, ma non vi dico quale, sarete voi a dirmelo un telefono realizzato in alluminio, costruito bene, con un'impronta da top di gamma insomma, tutto si preannuncia figo, andiamo a vedere nella recensione se c'è qualche punto debole di questo smartphone Meizu M3 Note Ecco la versione in cui viene venduto la M3 Note stiamo parlando della versione internazionale venduta per farsi capire in maniera ufficiale da negozi come Euronix e Unieuro abbiamo il cavetto di connessione, abbiamo il connettore per caricare il telefono e praticissimi auricolari, veramente molto carini, mi è piaciuta tanto anche la confezione in cui sono presentati ovviamente manualistica e spilletta Flyme per estrarre il vano andiamo a mandare via la scatolina, perché? Perché a noi interessa fondamentalmente il Meizu M3 Note che avete visto subito da questo sblocco, come si sblocca in maniera veloce vedete l'impronta digitale sul tasto home veramente fantastica, degna di un top di gamma vi faccio rivedere qualche tentativo di sblocco 153,6, 75,5, 8,2 mm di spessore, 163 grammi un telefono veramente bello, elegante, costruito perfettamente ottima lavorazione dell'alluminio, insomma il design, la costruzione lo rendono un top di gamma poi ovviamente il top di gamma non è perché vi dico subito il prezzo, 199 euro super giù per la versione da 2 giga di RAM una trentina, quarantina di euro in più per la versione con 3 giga di RAM e 32 giga di archiviazione questa che vedete nella recensione è la versione da 2 giga di RAM con 16 giga 16 giga o 32 sono espandibili da questo slot qua perché questo slot contiene due carrellini o due sim, una versione nano e l'altra in versione normale la normale può essere anche utilizzata come ingresso micro sd per espandere la memoria abbiamo i pulsanti accensione blocco sblocco e bilanciere volume unito su e giù sono praticamente la stessa barra in alto abbiamo il secondo microfono jack per le cuffie e in basso una parte bassa veramente simile a uno smartphone che voi sapete benissimo riconoscere ingresso micro sd altoparlante di sistema e microfono da cui entra la voce nella nostra conversazione display 5,5 pollici full hd bellissimo è un ips lcd veramente ben fatto i colori sono belli mi sono piaciuti veramente tanto abbiamo il led di notifica solamente bianco ahimè abbiamo la fotocamera anteriore da 5 megapixel la posteriore da 13 megapixel con doppio flash led focale di 2.2 la batteria su questo meizu m3 note non è removibile ma è una signora batteria 4100 mAh che non si sentono veramente non gravano sul peso generale del telefono io vi dico ragazzi due giorni di utilizzo senza ricaricarlo bellissima questa sensazione poter uscire di casa stare via tutta la giornata senza preoccuparsi di guardare la percentuale della batteria ma andiamo a vedere subito un po' di chicche di questo m3 note perché? perché abbiamo visto l'impronta che funziona perfettamente possiamo bloccarlo semplicemente tenendo premuto schiacciando il pulsante home e ve lo faccio rivedere vado ad appoggiare sblocco tengo premuto e il telefono si sblocca doppio tap guardate la reattività di questo doppio tap per essere un medio di gamma recepisce tutto il tocco come un top di gamma e guardate come lo sblocco possibilità anche di disegnare a telefono in standby per attivare determinate funzioni come la fotocamera oppure la M per il lettore multimediale vedete è entrato adesso nel lettore multimediale parlando anche di memoria abbiamo detto 16 giga disponibili all'utente circa 7 per installare quello che vuole dei 2 giga di ram vi faccio vedere il multitasking come funziona vedete come è carino questo multitasking come sia fluido anche il modo di portare alla mano il multitasking ve lo faccio rivedere vedete un multitasking che se andiamo a cancellare tutte le applicazioni ci da una ram a disposizione di 700 mega per il nostro utilizzo di applicazioni in background parlando di tasto home si fa tutto con questo perché abbiamo visto si rianima si sblocca si blocca e funziona anche da tasto indietro perché se io vado nella galleria posso toccare il tasto home e torno indietro non vado a premerlo perché se lo premo torno sempre alla home come succede sugli iphone mentre in questo caso ragazzi ovunque io sia facciamo un esempio sono nella sezione temi vado a vedere questo tema e voglio tornare indietro io sfioro il tasto home e torno indietro nella pagina da cui sono venuto quindi non ci sono i classici pulsanti indietro e multitasking tutto si fa con questo pulsante e pregate che mai si rovini questo pulsante perché altrimenti siete fritti e non potrete fare altro le foto galleria divisa fra foto scattate e sezione album le foto come vengono? vengono non troppo bene perché? perché la fotocamera è il punto debole di questo Meizu qui ero a una esposizione di quadri a Scandici se in questi giorni siete liberi, siete in zona fiorentina andate al castello dell'acciaiolo a vedere la pittura di Regoli veramente quadri che mi sono piaciuti tanto ma torniamo alla qualità fotografica perché? perché le foto non sono il punto di forza di questo Meizu 13 megapixel che lavorano piuttosto male sempre l'immagine diciamo sfocata anche l'anteriore da 5 megapixel non è una ottima cam ma perché? perché i Meizu non sono propriamente grandi telefoni per lo scatto anche questa pecorina fatta con scarsa luminosità vedete mostra tutti i suoi limiti immagini sempre tendenti al buio con i flash in ambienti veramente bui la situazione se catturate un oggetto a distanza ravvicinata è sufficiente penombra tanta granulosità nelle foto quindi una fotocamera che mi ha leggermente deluso darei un 6 più alla fotocamera di questo Meizu andiamo a vedere le impostazioni della fotocamera perché? perché è possibile scegliere l'HDR la griglia, la data e ora e la dimensione delle foto ahimè è un po' deludente anch'essa perché? perché si scatta in 16 noni ovvero a tutto display solamente a 3 megapixel mentre se andiamo a scattare in 4 terzi possiamo scegliere tra 8 o 13 megapixel stesso discorso per la fotocamera frontale il software è molto intuitivo ovviamente possibilità di effetti in tempo reale rotazione cam il timer acceso spento e il flash che si può attivare o meno ovviamente modalità di scatto che sono queste ve le faccio vedere automatica manuale video risoluzione massima full HD bellezza panorama messa a fuoco selettiva chiamata refocus possiamo scegliere quale parte dell'immagine mettere a fuoco e poi GIF macro e slow motion vi faccio vedere anche la velocità di uno scatto con questo Meizu andiamo a mettere a fuoco vedete diciamo che come velocità e messa a fuoco ci siamo scatta bene però ragazzi la qualità non è veramente accettabile diciamo che sarete contenti delle foto di questo Meizu M3 Note solamente con tanta luce diurna ma il software il software è la Flyme veramente favolosa non c'è il drawer delle applicazioni tutto sta nella home fluida veloce intuitiva le impostazioni sono capibilissime si possono comprendere in maniera veloce in fondo non c'è molto da capire ma se non trovate qualcosa lente di ingrandimento potrete cercare quello che più vi interessa andiamo info sul telefono perché voglio vedere come il nostro Meizu M3 Note si è arrivato alla versione Android 5.1 con Flyme 5.1.3.3G non è ancora arrivato Marshmallow su questa versione di Meizu M3 Note dovrebbe arrivare ragazzi fatemi sapere se chi lo possiede lo ha già installato andiamo a sentire la musica perché da questo autoparlante in basso la musica ragazzi vi sorprenderà andiamo a vedere brani locali prendiamo una canzone allora il volume da questa cassa si sente veramente veramente alto dovrete sempre abbassarlo perché quasi vi darà fastidio ok non è ricchissimo di bassi non è una cassa di qualità assoluta però il volume è veramente alto quindi vi ripeto ragazzi la suoneria la sentirete anche troppo alta a me a volte dà fastidio quando arrivano le notifiche nella sezione personalizza abbiamo un mondo a portata di mano perché? perché possiamo cambiare questa interfaccia se non ci piace andiamo qui nella sezione personalizza nella sezione hot come vedete abbiamo la possibilità di temi e wallpaper fra i temi ci sono tanti temi tutti gratuiti per cambiare la grafica l'interfaccia la forma delle icone guardate possiamo rendere il telefono simile a altri smartphone che non sto qui a nominare guardate anche i nomi material mist ios insomma elegant os black rose guardate anche questo come somiglia a quello di iphone guardate anche voi insomma un meizu che ovviamente tende a copiare il melafonino per eccellenza andiamo a vedere il browser di meizu browser di serie andiamo sul sito della repubblica sotto wifi vediamo come funziona e vedete come gira benissimo il browser di meizu ovviamente tante personalizzazioni home le pagine e poi tutte queste impostazioni per i segnalibri la cronologia la modalità senza una tracciatura insomma tanti tipi tanti tipi di settaggi disponibili all'utente interessante il toolbox di meizu che permette di avere applicazioni veloci come la torcia che si accende subito con l'intensità della luce emessa veramente una cosa interessantissima lo specchio oppure la vussola il livello il righello ragazzi un righello ci fornisce meizu e una lente di ingrandimento per andare a analizzare la situazione in maniera ravvicinata vediamo anche la prova ludica apriamo subito Asphalt 8 e vediamo come si comporta questo processore Mediatek Helio P10 MT6755 è un octa-core da 1.8 GHz ecco che si parte ne vada animazione leggermente scattosa dico leggermente niente di grave e parte Asphalt 8 viene riprodotto molto bene graficamente mi piacciono i dettagli tuttavia un po' di lag qualche piccolissimo lag nel gioco non c'è quella fluidità che ti aspetti da un processore octa-core niente di trascendentale ovviamente ma lo dico per i più pignoli per coloro che vogliono spremere il 3D del proprio smartphone per gli amanti del benchmark andiamo a vedere anche quanto totalizza questo Meizu M3 Note dove ce l'ho? dove ce l'ho? eccolo qua eccolo qua 45.439 un punteggio non è altissimo ma chi se ne frega perché tutto gira bene su questo Meizu fluido bello da capire bei colori belle icone anche il menu a tendina è bello ricco ovviamente la luminosità è settabile manualmente oppure anche luminosità automatica abbiamo detto doppia sim 4G LTE manca la banda 800 quindi purtroppo se avete 3 non ci saranno problemi quindi 4G senza problemi se avrete un operatore che sia Team Vodafone o Wind potrebbe non agganciare il 4G quindi potrebbe farvi storcere il naso il wifi prende bene la sezione diciamo telefonica dual sim e reti funziona bene possiamo scegliere ovviamente quale sim utilizzare quale sim dotare dei dati mobili modalità di rete scegliela se 2G 3G o 4G eccetera eccetera quindi un'impostazione dual sim veramente ben fatta insomma ragazzi abbiamo visto questo Meizu M3 Note come si comporta bene per la longevità della batteria per la qualità della riproduzione musicale per tutto un corpo perfettamente lavorato in alluminio degno di un top di gamma ma soprattutto nella parte software un sensore di impronta favoloso si sblocca subito al primo tocco si blocca il pulsante home è un pulsante multifunzione torna indietro blocca lo schermo sblocca lo schermo e ovviamente presenti anche le gesture per attivare in maniera istantanea alcune funzioni a nostra scelta un telefono che a livello software a livello di funzionamento è molto vicino a un medio alto di gamma ma se guardiamo i suoi limiti notiamo che la fotocamera è la parte più deludente di questo Meizu M3 Note gli scatti offerti da questo telefono non sono granché non mi sono piaciuti sono appena sufficienti ma non vanno oltre il 6 6 più da segnalare anche una sezione notifiche a volte un po' pigra perché non so il motivo preciso manca la banda 800 ok quindi limitazioni anche nell'aggancio della linea 4G ovviamente il telefono naviga in 3G in maniera tranquilla ragazzi non ci sono blocchi di nessun tipo funziona con tutti gli operatori però talvolta ho notato che le notifiche sono piuttosto pigre quindi a volte per ricevere una mail devo prima andare nella sezione delle mail fare l'aggiornamento e vedo la mail visualizzata quindi una cosa che un po' mi ha dato fastidio ma a parte questo quanto costa M3 Note troviamo la versione da 2Gb di RAM con 16Gb di archiviazione a prezzi veramente bassi 189€ online in negozio 199€ prezzi veramente accettabili se guardiamo la qualità del prodotto anche la versione da 3Gb di RAM con 32Gb di archiviazione è a prezzi veramente ottimi Amazon mi pare la venda sui 230€ più spedizione quindi per queste caratteristiche è veramente un ottimo prezzo best buy mi chiederete voi io vi dico sì sì a patto che voi non siate maniaci delle fotografie e a patto che voi non siate maniaci del 4G perché vi ripeto la mancanza della banda 800 MHz potrebbe darvi veramente un fastidio notevole detto questo vi piace M3 Note ve lo fate sapere ragazzi se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale di The Chasti per non perdere i nuovi video ciao a tutti ciao a tutti